La parola di Gesù e San Paolo Per guadagnare il Paradiso Deve essere mortificati Qui sono i Cristi che hanno il suo Quello che sono Gesù hanno Crucifisso il loro corpo con tutta la Passapassione, la castità, la penitenza, il Degionio, dove è oggi in Paradiso Altrimenti non si va, Gesù ha il suo Vittorio sulla croce, sulla croce Sopra i cimiteri, non un simbolo così ma Il simbolo mondiale per la risurrezione Dice anche che elimina tutte le Marchie e ti salva anche dalla morte E' l'emosina per Gesù, per i poveri e i bambini Castità, amore per i poveri e tutto nel Mare di Gesù, come dice il nostro Patrono San Francesco e Dio è tutto il mio bene Non faccio maria come vostro amico Come uguale con il padre Veniamoci Ci invita tutti Tutti, tutti, tutti Voi lo conoscete ma milioni Di miliardi di altri che non conoscono Ah, Gesù niente Oh, Dio, perdono, perdono, perdono Perdono, perdono, perdono Perdono, perdono Perdono, perdono Oggi, erano nezvanciere della messa Per le... Veson dono, sono dono Pax e benicite, omnivotentes Papis, e tidi, e spiriti, sanfi De shvenci rossi, e mani san vero Due e velho che non conoscono Credo? Il broso Vedendo Non hai Guarda Sopra Vedo